A quasi 30 anni dalla prima manifestazione per le feste vigiliane di Trento dei Ciusi e dei Gobi, tenutasi nel 1984, voglio far vedere ai Trentini tre bozzetti originali a colori e i due bozzetti in bianco e nero pubblicati sul giornale locale Alto Adige di Trento in data 5 giugno 1983. Sta scritto, si sta cercando di ricostruire i costumi d'epoca dei Ciusi e dei Gobi in uno studio di Giorgio Oppi. E' stato detto che Giorgio Oppi ha soltanto collaborato con il comitato che ha organizzato le manifestazioni vigiliane di Trento. Io ero il costumista ed i costumi dei Ciusi e dei Gobi sono esattamente quello che io ho progettato su indicazioni dell'architetto Michelangelo Lupo nell'anno 1983. Io avevo eseguito per l'azienda del turismo di Trento tutti i costumi per la manifestazione dei Ciusi e dei Gobi. Se il comitato organizzatore successivamente si è modificato ed ha scelto soltanto parte del mio lavoro, ciò non toglie che i protagonisti principali che sono i Ciusi e i Gobi sono frutto della mia creatività e ne rivendico il diritto d'autore.